Gli altri primi tempi a Foggia, Foggia 1 Verona. Grazie all'undecimo a Foggia, il Foggia conduce sul Verona per due reti a zero. La seconda rete è stata segnata al nono minuto ancora da Bordone su azione di calcio d'angolo. Bene, qui è lo studio Foggia. Al ventesimo la situazione è la seguente, Foggia 3 Verona 1. Prima del raddoppio al nono minuto di Bordone aveva pareggiato al quarto per il Verona Mascetti, come ci ha comunicato il nostro collega Edson Foglianese. Al quindicesimo la terza rete per il Foggia, ad opera di Domenghini su passaggio di Bordone. Ventesimo, ripeto, Foggia 3 Verona 1. Allo studio gli altri tre finali a Foggia, Foggia batte Verona 4 a 1. La quarta rete per il Foggia segnata al quarantacinquesimo da Nicoli.